Il botto finale per completare il roster. L'Eppicasa Brindisi ha terminato la campagna di rafforzamento dell'estate 2020 con l'ingaggio dello statunitense Nick Perkins, centro mancino alto 2,03 metri per 113 kg. Nato e cresciuto a Ypsilanti nel Michigan il 15 ottobre 1996, Perkins arriva da una stagione nella Japanese Basketball League, prima esperienza lontano dagli States. In Giappone, con la compagine dei Nigata, Albirex ha messo a referto una doppia da 20,4 punti e 10 rimbalzi di media. In doppia cifra, in 38 occasioni su 39 incontri disputati e con 20 o più punti a referto in 22 match, ha fissato il suo massimo score stagionale a 34 punti nel novembre 2019 contro gli Itachi Sun Rockets. L'inizio della sua carriera è avvenuto al Milan High School ed è stato caratterizzato dalla vittoria di quattro campionati, quattro titoli distrettuali, due regionali e uno di Class B State nel 2014. Tra i principali traguardi raggiunti, quello di quinto miglior all-time scorer dell'Università di Buffalo, tre volte Sixth Man of the Year tra il 2017 e il 2019 e due volte First Team All-Mac nel 2018 e nel 2019. La decisione di firmare il primo contratto professionale in Giappone era maturata nell'estate 2019 dopo aver accarezzato il sogno di firmare un contratto nell'NBA con i Los Angeles Lakers, franchigia con cui si è messo in mostra nella Summer League. Ora è il nuovo centro della Epicasa Brindisi. Crediamo che Nick possa essere un valore aggiunto per noi grazie alle sue doti tecniche e atletiche e il messaggio di benvenuto del direttore sportivo Simone Gioffre. Perkins completerà un roste in rigiovanito con grande attesa per la guardia texana d'Angelo Damon Harrison, leader al Maccabi Rishon Lezion e arrivato in Puglia per sostituire Adrian Banks. Ad avviare l'annata della squadra allenata dal confermato coach Vitucci sarà la Supercoppa al Via il 27 agosto con quattro gironi da quattro squadre e gare di andata e ritorno. Brindisi farà parte del gruppo D completato da Dinamo Sassari, Virtus Roma e Victoria Pesaro.